Cosa accadrà, colpi di qua, colpi di là, cosa accadrà, cosa accadrà. Tu sei polvere e polvere ritornerai, ma coloro che credono in Dio vivranno in eterno, perché grande è la gloria del Signore. Preghiamo insieme per i nostri fratelli che ci hanno preceduto nel regno del battesimo e che ora dormono il sonno della pace. Addio, caro mamma. Addio, caro papà. Non sono più fra noi. Genitori adorati, compagni fedeli, fervidi credenti, essi lasciano nel cuore di tutti noi un vuoto incolmabile. Ma non piangete per loro, perché ora sono nel regno dei cieli, dove divideranno la gloria del Signore per tutti i secoli. Amen. Miran, sei tu? Non potevo mancare. Miran, così ti prenderanno. Ci penso io a fare la guardia, ragazzi. L'ho appena saputo. È terribile quello che hanno fatto ai tuoi genitori. Grazie di essere venuto, Miran. Maledetti signori, maledetta tutta la nobiltà. Ma ho giurato vendetta. Ma che cosa servirebbe? Ascolta, Simon, perché non ti unisci a me e ai miei uomini in questa lotta? Che cosa hai detto? Ma sì, certamente. Potremmo combattere insieme, distruggeremo i nobili, abbatteremo la monarchia. Dobbiamo creare un mondo fondato sulla libertà. Abbassa la voce, Miran, così ti sentono tutti. D'accordo. Il potere deve essere in mano al popolo, alla gente che lavora. Riesci a capirmi, Simon? Sì, ti capisco, ma non posso seguirci. Perché non puoi, Simon? Parla. Ho promesso a mio padre che entrerò nel convento di Pantemon. Lui desiderava soltanto una cosa, che io potessi diventare una nobildonna. Come una nobildonna? Ma se sono stati proprio dei nobili a uccidere i tuoi genitori, dovresti odiarli con tutto il cuore. Ti prego, cerca di capirmi, Miran. Tu ancora non ti rendi conto di una cosa. Io non so nemmeno chi siano i miei veri genitori. E devo scoprirlo ad ogni costo, non posso più vivere così. C'è il comandante Geroul, sta venendo qua giù con i suoi uomini! Scappa, presto! Ti supplico, Simon, non entrare in quel convento, non farlo, ti prego. Ora pensa a salvarti, se non scappi subito ti prenderanno. Ascolta, Simon, devi farmi una promessa, come l'hai fatta a tuo padre. Promettimi che non tradirai mai il popolo di Francia, che sarai sempre dalla sua parte. Sì, te lo prometto. Ma ora scappa, stanno arrivando! A presto, Miran, e stai attento, hai capito? A presto! Fermatevi! Guarda, guarda chi c'è. La nostra povera orfanella. Questo succede solo a chi osa mettersi contro i nobili. Dio perdona questo povero peccatore. Maledetto! Povera la nostra piccola fioraia. Se non sbaglio il tuo nome è Simon, eh? Dimmi, e dove è andato il tuo ragazzo, scimmietta? Ah, capisco. Così il tuo Miran è andato da quella parte, eh? Mi è sfuggito una volta, ma non succederà mai più. Stavolta verrà immediatamente giustiziato. Avanzi al galoppo! Sporca canaglia, abbasso Giroud! Mio signore, ti prego, proteggi Miran. Lui è così giovane, fa che non gli succeda niente di male. Guarda, guarda, il nostro Danton. Ti hanno buttato giù dal letto stamattina. Come mai sei già in piedi a quest'ora? Ma è normale, caro il mio corale. Ormai sono io che dirigo tutto qui. Come sarebbe a dire? E Simon che comanda? O forse ne è successo qualcosa? Non lo sai. Simon diventerà una nobile donna. Stamattina è partita per il convento. E mi ha lasciato tutto solo. Oh, chi l'avrebbe mai detto? Miran, ti prego, perdonami. Addio, Simon. Diventa pure una nobile donna, se è questo che vuoi. Io pregherò per la tua felicità. Hai vinto tu. Sei riuscito a battermi, Simon. Voi scherzate, è stato un colpo di fortuna. Una semplice coincidenza. No, niente affatto. Non è stata una coincidenza. Diventi più brava giorno dopo giorno. Ascoltami, voglio spiegarti una cosa. Immagino ti sarai già posta come domanda perché mai una ragazza deve imparare a tirare di scherma. Beh, questo è molto semplice, Simon. Perché verrà il giorno in cui tu avrai bisogno della spada e io non mi sono affatto ingannato sul tuo conto. So che farai buon uso di tutto quello che ti sto insegnando. Ed ora vai a cambiarti. Sì, sarò pronta in un attimo con te. Ecco, tutto quello di cui avrai bisogno in convento è contenuto in questo baule. Manca soltanto una cosa. Porterai anche questa con te. È una spada antica e preziosa che solo i coraggiosi possono usare. Tieni. Grazie. Ma ricordati una cosa, Simon. È a colpi di spada che si combatte per la giustizia. Va bene. Non dimenticherò mai le vostre parole. Ve le assicuro. Ora puoi anche andare, Simon. Va bene. Arrivederci, Conte. Arrivederci, figliola. Quella ragazzina diventerà una perfetta nobile donna. Su questo non c'è alcun dubbio. Oggi per me è l'inizio di una nuova vita. L'educazione che riceverai da noi sarà completa. Oltre agli studi classici ti verranno insegnate anche le regole dell'etichetta. Naturalmente dovrai rimanere con noi almeno tre anni. Sì, certo. Lo so, madre superiore. Quella là deve essere una nuova. Chissà come si chiama. Io l'ho già vista da qualche parte. Ah, sì? Dici chi è. Quella là è la figlia di un povero fioraio. Puoi scherzare. È daffatto, è la verità. Ma allora non può essere di sangue nobile. Oh, disgustoso. Ragazze, da oggi avete una nuova compagna. Una giovane che come voi imparerà ad amare il signore e ad essere una nobile donna. Simone Lorraine. Ma chi è quella là? Una ragazza ordinaria. È la figlia di un povero fioraio. Una popolana. Non è neanche un povero fioraio. Ma non è che si è. Fate silenzio, ragazze. Ora basta. Madre superiore. Sì? Cosa c'è, Françoise? Per favore, ci vuole spiegare perché una popolana come Simone Lorraine viene a vivere insieme a gente nobile come noi? Sicuramente una cosa è decente. Noi non la vogliamo. Anch'io non me lo spiego. So soltanto che il conte de Vodrell mi ha chiesto di ammettere la scuola e io l'ho fatto. Tutto qui. Quanto vuole prendersi il gioco di un'altra? Non vengono a sapere i miei genitori. Te lo dirò. Non voglio studiare, perché sono contento. Non vengono a sapere i miei genitori. Si può sapere che stai facendo? È lei, madre superiore. Che cosa significa quella spada, Simone? Dimmi, dove l'hai presa? Questa per me è la cosa più preziosa. Il signore detesta le spade più di qualunque altra cosa, ti avverto. Il solo atto di estrarla già ti rende una peccatrice davanti ai suoi occhi, non adoperarla mai più, Simone. Ricordatelo. Aprite, aprite! Ehi, avete sentito? Filiamoci alla polizia. Ci hanno scoperti, dannazione. Ho trovato, ci tufferemo tutti nella senna. Avanti, seguitemi! Circondate l'edificio! Non devono scappare! Prendete quel furfante! Che aspettate a sparare? Eccolo là, a fuoco! Non la vediamo più, comandante! Raggiungete l'altra riva, idioti! Accidenti, ma quello è il tulipano nero! Ancora lui! Salve, amici! Posso farvi un po' di compagnia? Tu, salta sul mio cavallo e scappa! Pensero io di aver fatto loro a questi farabutti! Grazie, ti ringrazio, tulipano nero! Ma che cosa stai aspettando? Scappa, non perdere tempo! No, è troppo debole! Devi farcela, mira! Prendiamoli adesso! Avanti! Presto, inseguiamoli! Avanti! Andiamoli! Perdonami, Simone, te l'avevo promesso, ma non sono riuscito a proteggere Miran! Ed è grazie al potere del nostro Re, alla santità della nostra Chiesa e alla forza della nostra nazione, che tutti i popoli della terra conosceranno la bontà del Signore Dio e canteranno la sua gloria per tutta l'eternità! Allora, Simone, ti sei abituata alla vita di convento? Sì, un po'. So che grosse cose stanno accadendo al di fuori di queste mura, ma la vita del convento è tranquilla e serena. E anche se qui le cose non vanno sempre come vorremmo, almeno siamo al sicuro, Simone. Grazie, Michelle, sei tanto cara! Voglio regalarti questo libro, Simone, tieni. Grazie. Ci sono delle poesie scritte dal famoso André Chénier. È molto in voga di questi tempi, sono certa che le troverai bellissime. Io non so come ringraziarti, Michelle. Sono io, Simone! Sei tu, D'Anton! Perché sei qui? È successo qualcosa? Si tratta di Miran, le guardie lo hanno preso un'altra volta. Oh no, non è possibile, hanno preso di nuovo Miran. E ho anche saputo che stanotte lo porteranno alla Bastiglia. Oh no, mio Dio, se lo mandano alla Bastiglia sicuramente non uscirà più vivo di lì. Signore mio, ti supplico, salva Miran. Ascolta, Simone, il tulipano nero ha detto che stanotte ha bisogno del tuo aiuto. Che cosa? Il tulipano nero ha bisogno del mio aiuto? L'altra notte è stato ferito dalla polizia e non ce la farebbe da solo. Forza, Simone, non perdiamo tempo. Ci stanno aspettando. Non posso venire con te, D'Anton. Non posso proprio, credimi. È a colpi di spada che si combatte per la giustizia. Il signore detesta le spade più di qualunque altra cosa, non usarla più. So che farai buon uso di quello che ti sto insegnando. Promettimi una cosa, che non tradirai mai il popolo di Francia e che starai sempre dalla sua parte. Il solo atto di estrarla già ti rende una peccatrice, Simone. Non posso venire, non posso. Beh, che effetto fa a essere legati come salami, eh? Scommetto che non vi fa tanto piacere. E c'è di più, stanotte finirete alla bastiglia. Così vi passerà la voglia di scherzare. Tu! No, Miran! Io non lo so se riuscirò a farlo, ma devo tentare, devo farlo per Miran. Non lo so se riuscirò a farlo, ma non lo so se riuscirò a farlo, ma non lo so se riuscirò a farlo. Ma non sei la ragazzina del convento? Mi dispiace tanto, signori, non volevo urtarvi, andavo un po' di fretta. Il tuo dio è molto permissivo se ti permette di uscire di notte. E perché non ti urisci a noi, eh? Già, che ne dici, bellezza? Perché non vieni a bere un bicchierino con noi, eh? Viva il re di Francia! Forza, coca, siamo! Guai a te, se tocchi, Simon! Brutto piccolo moccioso! No, aspetti, messie, la prego, deve scusarlo. È soltanto un bambino, non intendeva certo offenderla, mi creda. Avanti, D'Antonio, chiedi subito scusa. È solo uno scarafaggio! Non fategli del male, signori, vi prego. E come mi diverto, su, infilza quel mocciosetto. Dai, in guardia tua, avanti! Fermo! Fermati, ho detto! Affettalo! No, vi supplico, lasciatelo andare. D'Anton! Fermala, non muoverti! Scappa, D'Anton, scappa! Ho paura, Simon! Aiuto! Attenta alle spalle, girati! Ma, ma tu chi sei? Maledetta! Vieni! Aiuto! Così imparate, brutti e prepotenti! Oh, Simon, Simon! Vieni qui. Presto, sbrighiamoci, D'Anton. Dobbiamo raggiungere il tulipano nero. Entra, Simon, grazie di essere venuta. Non c'è tempo da perdere, dobbiamo salvare Miran prima che sia troppo tardi. Sì, ti prego, tulipano nero, salva il mio amico Miran. Non hai bisogno del mio aiuto, puoi salvarlo anche da sola, è già tutto pronto. Basta solo che tu dica sì, che cosa mi rispondi? Allora? Sì. Senti, mi è venuta un'idea, Simon. Ogni volta che indosserai quel costume ti chiamerai... ...la stella della Senna. Hai detto la stella della Senna. Ehi, non è niente male, mi piace, mi piace! È giunta l'ora di andare, stella della Senna. Sì. Per trarre in salvo Miran. Che deve essere imprigionato nel carcere della Bastiglia, combatto sotto le spoglie della stella della Senna. Ce la metto tutta, ma vengo ferita dalla spada del luogotenente Gerù, inseguita con tenacia. Prossimo episodio del Tulipano Nero, un prigioniero da liberare. Non mancatelo, intesi? Ando qua giù con i suoi uomini! Scappa! Presto! Ti supplico, Simon, non entrare in quel convento, non farlo, ti prego! Ora pensa a salvarti, se non scappi subito ti prenderanno. Ascolta, Simon, devi farmi una promessa, come l'hai fatta a tuo padre. Promettimi che non tradirai mai il popolo di Francia, che sarai sempre dalla sua parte. Sì, te lo prometto. Ma ora scappa, stanno arrivando! A presto, Miran, e stai attento! Hai capito? A presto! Fermatevi! Miran, sei tu? Non potevo mancare. Miran, così ti prenderanno. Ci penso io a fare la guardia, ragazzi! L'ho appena saputo. È terribile quello che hanno fatto ai tuoi genitori. Grazie di essere venuto, Miran. Maledetti i signori, maledetta tutta la nobiltà! Ma ho giurato vendetta! Ma che cosa servirebbe? Ascolta, Simon, perché non ti unisci a me e ai miei uomini in questa lotta? Che cosa hai detto? Ma sì, certamente! Potremmo combattere insieme, distruggeremo i nobili, abbatteremo la monarchia, dobbiamo creare un mondo fondato sulla libertà. Abbassa la voce, Miran, così ti sentono tutti! D'accordo. Il potere deve essere in mano al popolo, alla gente che lavora. Riesci a capirmi, Simon? Sì, ti capisco, ma non posso seguirti. Perché non puoi, Simon? Parla! Ho promesso a mio padre che entrerò nel convento di Pantemon. Lui desiderava soltanto una cosa, che io potessi diventare una nobile donna. Come una nobile donna? Ma se sono stati proprio dei nobili a uccidere i tuoi genitori, dovresti odiarli con tutto il cuore. Ti prego, cerca di capirmi, Miran. Tu ancora non ti rendi conto di una cosa. Io non so nemmeno chi siano i miei veri genitori. E devo scoprirlo ad ogni costo. Non posso più vivere così. C'è il comandante Sherul, sta bene... Colpi di qua, colpi di là, cosa accadrà, cosa accadrà. Tu sei polvere e polvere ritornerai, ma coloro che credono in Dio vivranno in eterno, perché grande è la gloria del Signore. Preghiamo insieme per i nostri fratelli che ci hanno preceduto nel regno del battesimo e che ora dormono il sonno della pace. Paul Loren... Addio, cara mamma. Addio, cara papà. Non sono più fra noi. Genitori adorati, compagni fedeli, fervidi credenti, essi lasciano nel cuore di tutti noi un vuoto incolmabile. Ma non piangete per loro, perché ora sono nel regno dei cieli, dove divideranno la gloria del Signore per tutti i secoli. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.